Buona giornata, benvenuti, bentrovati, allora eccoci ad un altro appuntamento dedicato al mondo dello sport www.venetoglobe.com, il nostro sito, c'è anche la radio, WG Radio che ci accompagna e naturalmente per quanto riguarda invece la tv normale, per così dire, digitale terrestre, per la tv del Nord Italia, Caffè TV 24, vedibile e captabile sul canale 95 per Veneto e Friuli, Venezia Giulia, questa è l'app invece per portare il tutto sul vostro telefonino per www.venetoglobe.com. È passata una settimana dall'incidente accaduto ad Alex Zanardi, condizioni stazionarie per il pilota mentre la procura adesso si affiderà a due esperti per valutare i dati del GPS di un ciclista che affiancava proprio Alex Zanardi. Siamo al calcio perché dopo la Coppa Italia il calcio italiano è ripartito con il campionato, è ripartito, si gioca quasi ogni giorno, ieri sera riposo, torna il campionato alle 21.45 di questa sera e ad affrontarsi saranno Juventus e Lecce, partita importante per la Juve e per Sarri. Poi domani le altre, Brescia-Genoa, Cagliari-Torino, Lazio-Fiorentina, Domenica, Milan-Europa, Napoli-Spal, Sampdoria-Bologna, Sassuolo-Verona, Udinese-Atalanta e Parma-Inter. Trentesima giornata anche in serie B e poi lunedì la trentunesima, oggi intanto Trapani-Pordenone, Pordenone che ha volato e che vola appunto a Trapani, Chievo-Spezia, Frosinone-Cittadella, è un cittadella rinfrancato da Venturato e poi c'è Venezia-Ascoli con un Venezia che deve riprendere a girare. A Benevento intanto è tutto pronto per la festa promozione anche se nessuno ne parla perché se i giallorossi che oggi giocano al Castellani di Empoli dovessero vincere, beh la A sarebbe sicura. Oggi alle 20.45 si gioca anche la finale di Coppa Italia di Serie C tra la Juventus, Ander 23 e la Ternana e poi ci saranno i play-out per quanto riguarda il girone B che è quello che ci interessa, quello veneto-friulano, a Verona si disputerà Arzignano Imolese. Intanto ieri la decisione del Consiglio federale di assegnare lo scudetto femminile alla Juventus, finalmente ci si occupa anche delle donne. Via libera al progetto tra l'altro per il professionismo dalla stagione 2022-2023. Andiamo in Premier dove il Liverpool con il tecnico Klopp ritorna sul trono dopo ben 30 anni, grazie anche alla vittoria del Chelsea sul Manchester City. La vittoria del Liverpool arriva a sette giornate dalla fine e quindi ha segnato lo scudetto inglese. Nel basket la Virtus Bologna è pronta a sfidare l'Olimpia Milano. 18 milioni di budget aumentato del 30%. Sarà allestita una squadra da Eurolega perché se si libera un posto la Virtus Bologna, ha detto il manager, ci sarà. Agli assoluti di tennis invece siamo a Todi. Sonigo avanza nel calendario del torneo e approda ai quarti di finale contro Musetti. Tra le donne a fatica si è confermata la favorita Paolini che avanza adesso spedita. Cronaca regionale, provinciale e locale. Finalmente è arrivata la decisione del board Pro 14 per il Benetton Treviso. Sapete ci saranno le ultime due partite che conteranno poco o nulla, soltanto il prestigio tra le due franchigie. Si giocherà il 22 ed il 29 agosto con Benetton che comunque sono fuori dei play-off della prossima Champions League. Oggi andiamo a sentire alla Ghirada Ezio Galon, il tecnico che cura il lavoro dei tre quarti Benetton. Allora, l'attività dei ragazzi nelle settimane scorse, in queste settimane, è ancora focalizzata sull'aspetto fisico. Abbiamo un pre-season per ovvie ragioni molto lungo, quindi abbiamo cominciato gradualmente seguendo il protocollo, anzi i protocolli che ci hanno inviato, quindi molta corsa, ovviamente no contatto e dalla settimana scorsa abbiamo cominciato anche a passarci un pochino più il pallone, quindi abbiamo potuto variare un pochino quello che sono gli esercizi e anche un po' introdurre un po' del rugby sull'aspetto tecnico, ma per questo blocco che è di quattro settimane il focus principale sarà ancora quello fisico. Le sfide di agosto sono delle partite ufficiali, fanno parte del campionato della stagione 2019-2020, quindi noi le prepariamo per arrivare nelle migliori condizioni possibili. Abbiamo la fortuna di avere del tempo, quindi recuperare comunque anche qualche acciacco e lavorare, riprendere un pochino dalle basi quello che è la preparazione della squadra, essere pronti fisicamente perché dopo un periodo di lockdown, che è una situazione che non abbiamo mai vissuto, anche noi dobbiamo capire qual è ovviamente lo stato fisico nella competizione dei giocatori, quindi abbiamo fortuna di avere del tempo, come ho detto, e l'obiettivo nostro è quello di performare al meglio e fare due grandi prestazioni. La preparazione, diciamo che, come ho detto prima, è un pre-season un po' particolare perché c'è stato molto dubbio su come sarebbe ripartito, quindi i ragazzi, soprattutto la preparazione fisica e tutti noi insieme abbiamo messo sul tavolo scenari diversi, quindi ci siamo preparati e ripeto, i ragazzi della preparazione fisica hanno fatto un lavoro incredibile, quindi per qualsiasi scenario si fosse proposto a noi eravamo pronti per affrontarlo nel modo giusto. Adesso sembra che le linee si siano un pochino, diciamo, che lo scenario ce ne sia uno, che è quello che hai detto tu, quindi non c'è niente in particolare, i ragazzi hanno preparato il programma per questo blocco di quattro settimane e per i blocchi successivi alle partite con le zebbre, quindi tutto a posto, salvo cambiamenti, siamo partiti. I ragazzi, i nuovi permidi quest'anno ci hanno sorpreso, uno per la preparazione, la qualità fisica e la professionalità che mettono ogni giorno, quindi non c'è stato alcun problema fino ad oggi nel loro inserimento, anzi, sono uno stimolo per tutti e anche un po' quello che gli si chiede, uno sono qui per formarsi e crescere, ma sono anche qui per mettere un pochino di pressione sui giocatori che ci sono, quindi da questo punto di vista molto bene. Adesso deve cominciare il rugby, spero a breve, quindi già lì avremo un'altra visione su di loro, che non è quella fisica, ma quella più rugbystica, però sono convinto che abbiamo fatto sei acquisti molto importanti. Ma come siamo molto contenti dei permit, sicuramente anche gli innesti, parlo per quanto mi riguarda per i tre quarti, sono di gran valore perché Edo è un giocatore che conosciamo, è un giocatore versatile che ci darà sicuramente moltissimo sia nel ruolo di estremo che di apertura, eventualmente anche in altri ruoli, come ha già fatto il nazionale o le zebbre. E Callum lo stesso, un giocatore che viene da un campionato importante, è un giocatore nazionale, quindi avrà un valore aggiunto importante anche per noi sul campo. Le nuove regole che sono state introdotte sono soprattutto per quanto riguarda l'ambito del contatto, la zona di contatto, quindi riguardano tutti, non guardano solo i tre quarti, ma anche gli avanti, quindi queste regole vanno soprattutto a influire quelle che sono le situazioni prolungate di contatto, quindi la mischia, il drive, la zona di placaggio. Se guardiamo un pochino le partite super rugby sono state negli ultimi due settimane, ovviamente siamo in un periodo di adattamento, di prova anche per loro, però sicuramente stiamo cercando di lavorare in modo diverso un pochino sulle racche per proteggere un po' quello che è l'attacco e di velocizzare il gioco, quindi probabilmente questi sono i cambiamenti più importanti. Marius dal suo punto di vista anche lui dovrà adattare il suo lavoro in una zona di contatto per quanto riguarda la difesa, perché forse ci sono delle opportunità in più per recuperare il pallone, però è molto più sul generale della squadra, quindi lo vedremo quando cominciamo a fare il rugby. È un rugby che è destinato forse a cambiare qualche cosina. Per la TVB De Longhi siamo al basket, mancano soltanto le firme di Russell e Achele per dare a Menetti una squadra estremamente interessante, manca tra l'altro, dice Gracis, il direttore sportivo, anche un difensore americano. Andiamo sul calcio, la Lega di Lettanti premia 5 società per i giovani di valore e sono il Giorgione, l'Union Pro, la Liventina nell'eccellenza, poi l'Opitergine ed il Vazzola nella promozione. Complimenti per lo sviluppo dei giovani, tra l'altro si uniscono e collaborano insieme dalla prossima stagione, Montebelluna e Caerano. Il calciomercato continua a muoversi, vi do alcune notizie, poi naturalmente continueremo la nostra rubrica, la nostra finestra con lo speciale appunto di Flavio Cipriani. E allora Scarabell da Pieve di Soligo passa a Lia Piave, Ton, il mister nuovo della Liventina arriva e poi ci sono altre due notizie dal Lia Piave, Zanetti e Paladin sono due nuovi giocatori appunto del Lia Piave. Vi dicevo con Flavio Cipriani parliamo di calcio mercato, lo facciamo ogni giorno con la sua finestra, sempre sul www.venetoglobe.com che vi invitiamo a visitare e a guardare e a vedere. È tutto, noi ci risentiamo lunedì per un buon weekend a tutti voi.